Eccoci con Alessandro Haber, stasera sarai premiato? Non lo so, credo, non lo so. Sì, sì, sarai premiato, almeno così c'è sulla locandina. Mi fa piacere, mi fa piacere. Pellicola d'oro. Ma dato dalle maestranze? Le maestranze le danno questo premio? Sì, sì, sì. Ma è meraviglioso. Ma anche agli attori come te. No, dico, sono le maestranze che decidono, mi pare, no? No. A chi è che l'ha deciso? Non l'ho, forse ci sarà una giuria qui. Ma la giuria è fatta da maestranze, credo. Credo di sì. Per quello mi fa ancora più piacere. Eh sì. Perché gente, capito, che il cinema dall'altra è dentro, però hanno un occhio diverso, hai capito? E sono sinceri. Per esempio, il mio primo complimento, il primo film che ho fatto, uno dei primi, è arrivato, non so se era un elettricista o un macchinista, ma ha detto, ah bene, sei forte, mi ha detto. Da lì ho capito che potevo andare avanti. Potevi andare, ti ha dato l'input. L'input, sì. Grazie Alessandro, piacere di averti conosciuto. Il prote Fernando. Come? Il prote Fernando, l'intervista attore. Non ho capito un cazzo. Io sono il prote Fernando, l'intervista attore. Ah, perfetto, sono molto contento. Ciao. Ciao Fernando.